eccoci qua benvenuti a tutti buon pomeriggio benvenuti a questo webinar di attiviamo energie positive un'iniziativa di produzione dal basso piattaforma di raccolta fondi e innovazione sociale oggi ospitiamo un intero team il team di shift on che è uno studio di progettazione design e insieme a loro scopriremo come generare innovazione impatto sociale attraverso design partecipano emanuel ingrao valentina daddato gugliano appolloni e marco mio dimmi di shift on il team oggi inoltre ci farà anche una presentazione della loro nuova serie mini podcast incentrata appunto sul design e sull'innovazione sociale sull'impatto sociale da domani su attiviamo energie positive quindi uno spoilerone io ricordo a tutti i partecipanti che possono interagire con noi qua su zoom in chat o nella istruzione domande risposte anche per chi ci segue via diretta social è possibile interagire commentando direttamente la diretta io vi lascio la parola mi taccio e buon webinar a tutti grazie di questa premessa buona buona sera a tutti sono sono manuel ingrao ma il compito di aprire il sipario di questo di questo webinar come correttamente detto in premessa diciamo l'obiettivo di questo webinar è andarvi un pochino a presentare chi siamo che cosa facciamo e in quel cosa facciamo si troverà poi riscontro nelle nelle cinque pillole podcast che abbiamo abbiamo registrato dove sostanzialmente diciamo andiamo a prendere le nostre metodologie di lavoro e ve le andremo a raccontare con degli esempi molto pratici ma non tolgo nulla al team che parlerà dopo di me che sarà più dettagliato e più preciso su questi aspetti vado a condividere qualche slide in cui provo a raccontarvi un pochino che cos'è shift on e come come fatta shift on siamo appunto uno studio di design avanzato per la social innovation quindi inizio sempre con il definire il perché la parola avanzato questo perché a differenza diciamo degli classici studi di design e di progettazione all'interno di shift on non ci sono solo delle competenze diciamo progettuali ma esiste un team transdisciplinare quindi persone che vengono da mondi differenti portano competenze differenti hanno approfondito nei loro studi scienze umanistiche scienze sociali degli studi legati alla filosofia l'antropologia e questo perché diciamo la nostra il nostro posizionamento è quello di affrontare delle sfide molto complesse e proprio perché queste sfide sono complesse non trovano mai una risposta sola questa capacità di lavorare insieme con persone che hanno competenze differenti sin da subito sui progetti ci dà la possibilità guardando appunto i progetti con lenti differenti di dare appunto delle risposte a quelle a quelle complessità come detto in premessa diciamo questi siamo noi siamo parte del team di shift on e sono poi i protagonisti delle pillole che abbiamo registrato quindi qui connesso Guglielmo Apolloni, Valentina Daddato e Marco Miodini che tra poco prenderanno la parola ho già anticipato questa slide quindi sostanzialmente che cosa vuol dire design per la social innovation utilizziamo le metodologie del design per andare a fare innovazione su organizzazioni, comunità o comunque su challenge differenti poi vedrete che i progetti hanno ambiti e settori veramente completamente diversi fra loro per andare appunto a generare un impatto positivo quindi non interessa solo l'innovazione ma interessa l'innovazione che in qualche modo possa portare a un cambiamento positivo nelle persone quindi nelle organizzazioni, nelle comunità e quindi nella società partendo sempre dai bisogni espressi dalle persone le nostre metodologie prevedono sempre una parte diciamo di raccolta di quelli che sono i need delle persone andando a analizzare un pochino quali sono le loro esperienze, i loro comportamenti, il perché prendono delle decisioni o perché non prendono delle decisioni andando a raccogliere poi diciamo come punto iniziale, come punto di partenza tutti questi aspetti con la metodologia del co-design andiamo a coprogettare collaborando sempre con tutti gli attori coinvolti che siano privati o che siano pubblici con l'obiettivo appunto di andare a ideare delle soluzioni che come dicevo poco fa possano generare innovazione ma soprattutto un impatto positivo e la metodologia diciamo che guida il nostro processo di lavoro è lo Human Centered Design che è appunto quella metodologia che consente partendo dai bisogni delle persone di andare intorno appunto ai loro desiderati, a volte dichiarati, a volte anche non dichiarati di andare poi a ideare delle soluzioni che guarda caso rispondono ai loro bisogni quindi questa metodologia è quella che riteniamo possa essere quella che consente di entrare molto più in contatto con l'utente finale, con il beneficiario, con il cliente, con il dipendente quindi volutamente diciamo allargato il target finale che sia appunto una progettazione di qualche cosa che riguarda sia una strategia può riguardare un prodotto, può riguardare un servizio, può riguardare un'esperienza a noi non importa quale sia poi l'atterraggio finale il processo di lavoro consente appunto di andare a ideare un qualche cosa che sia veramente desiderato e desiderabile da quell'utente che poi quel prodotto, quel servizio lo dovrà utilizzare Lascio con questa slide il timone a Guglielmo, a Polloni che proseguirà con alcuni dettagli sicuramente più esaurienti sul nostro approccio rispetto a quelli che ho condiviso io Prego Guglielmo Grazie mille Emma per questa introduzione e sì a me è l'onore, l'onere di parlare un attimo del nostro approccio come partiamo proprio da un modello un modello che può essere disegnato, che può essere letto dall'alto verso il basso che va appunto attraverso questi quadranti che vedrete che sono questi rombi che vedrete che sono quattro in totale che fra l'altro sono delle forme molto care al design in generale perché richiamano quello che in gergo tecnico viene chiamato il double diamond il triple diamond e quanti poi diamanti vogliamo andare a richiamare però lo stesso modello può essere letto poi anche in maniera circolare come vediamo per esempio nel secondo cerchio e poi vedremo che anche nel terzo e nel quarto abbiamo questa circolarità questa circolarità che va a sottolineare l'iterazione che ciascun passaggio può avere nel senso che ciascun passaggio può avere differenti iterazioni e a proposito di parlare di iterazioni anche le stesse iterazioni possono portarci avanti nel modello quindi più in basso nei passaggi oppure portarci anche a tornare indietro nel modello o anche a saltare dei passaggi quindi vado velocemente attraverso i quattro quadranti ritorniamo al primo una parte che ci interessa molto è quella dell'assessment nel senso quella di andare a ascoltare il partner lo chiamiamo cliente, l'organizzazione cliente ma la chiamiamo anche organizzazione partner per andare a vedere quelli che sono i punti all'interno del quale il proprio bisogno si porta in maniera tale che in questo modo riusciamo a ritornare al partner a rioffrire, a tornare dal partner con una sfida completa di obiettivi e risultati quindi un brief collegato anche a un processo che è anche la parte che c'è molto cara quindi disegnare un processo che vada a rispondere a queste sfide rispondendo a questa sfida rispondiamo agli obiettivi rispondendo a sfide e obiettivi portiamo dei risultati tangibili per la nostra organizzazione partner dopodiché abbiamo un momento di kick off e quindi questo è abbastanza trasversale a tutti i progetti sia interno che esterno per allineare la nostra squadra e per riallinearci con l'organizzazione partner stessa e poi diciamo che parte la sezione più cara di quello che sono i processi design quindi un momento di ricerca dalla ricerca passiamo alla definizione che va a chiamare anche quella che è l'obbligo da parte di un team di lavoro di essere accompagnato nel priorizzare nel dare una priorità a quelle che sono le criticità ai bisogni e le opportunità in maniera tale da fare quel passaggio tra divergenze di creazione scelta e convergenza nel fare le scelte tutto questo viene supportato dal shift on toolkit nel senso che creiamo dei canvas degli strumenti ad hoc oppure rimescolandone alcuni dalla nostra libreria o da altre librerie pubbliche e facilitiamo l'utilizzo di questi strumenti ma soprattutto rispetto alla facilitazione quindi laddove viene valorizzata l'intelligenza collettiva di un team andiamo a creare senso rispetto ai risultati per poi ritornare appunto dal gruppo di lavoro con questi risultati diciamo ordinati che rispettano appunto l'intenzione del gruppo di lavoro di lavoro stesso questo quando parliamo di gruppo di lavoro vuol dire che ovviamente il nostro approccio ormai lo diamo quasi per scontato ma non è sempre ma non è così per fortuna purtroppo il nostro approccio sempre prevede un lavoro di coprogettazione collaborazione appunto con i nostri partner le organizzazioni partner e clienti perché sono loro a portare l'intelligenza l'esperienza la conoscenza utile appunto a risolvere quelle sfide di prima noi portiamo appunto processi, metodi strumenti facilitazione processi appunto di creazione di senso e dopo la priorizzazione di criticità bisogni, opportunità andiamo al terzo pallino ok perfetto e qui c'è la classica anche parte di generazione di idee sopportata appunto da casi ispirazionali brainstorming e poi ma anche la validazione appunto della soluzione qui iniziamo a entrare in quello che poi è anche il pallino successivo in quel loop di costruisco testo dal testare imparo e quindi miglioro quello che ho costruito e che ci porta nello sviluppo continuo di quello che è stata l'idea il concept generato nel terzo pallino e quindi ci porta nel pallino successivo il quarto che abbiamo chiamato appunto di sviluppo che inizia con un design to action ossia un processo un percorso di accompagnamento dello sviluppo della soluzione e che viene accompagnato appunto da alcuni rituali come la retrospettiva e alcuni momenti chiave come la misurazione dell'impatto se tutto questo diciamo giramento di rombi e vari passaggi del metodo gli ha creato un pochino di confusione quello che da domani appunto inizieremo a fare è raccontare delle storie che permettono appunto di rendere tangibile concreto quello che rendere più tangibile più concreto quello che di cui stiamo parlando molto spesso ci capita sempre quando descriviamo il nostro lavoro la domanda successiva è bene quindi fammi un esempio concreto e quindi siamo partiti proprio da questa domanda che ci troviamo che molto spesso ci fanno per andare appunto a declinare le cinque puntate che seguiranno questa introduzione però ovviamente in questo momento ci dediziamo anche nel darvi qualche qualche spoiler qualche appetizer rispetto a quello che succederà dopo e quindi approfitto per passare appunto la parola a Valentina abbiamo risicato un po' di spazio per non sforzarla troppo in questo momento vai grazie Guglielmo e ciao piacere a tutte e tutti di conoscervi io sono la persona che ha raccontato la prima delle cinque storie nella prima delle cinque pillole e mi sono concentrata sul racconto di quelle che sono le due prime palle o rombi un po' come vi ha raccontato Guglielmo fino ad ora del processo quindi mi sono concentrata sulla fase di ricerca e quindi ho parlato di come e parlerò di come gestire di come condurre una ricerca sul campo e di come farlo in contesti complessi perché il caso studio che abbiamo scelto quindi San Vittore spazio alla bellezza che è il nome di questo progetto è un progetto di ricerca fatto all'interno del carcere di San Vittore della casa circondariale di San Vittore quindi la prima storia racconta come gestire la ricerca sul campo quando si lavora in contesti complessi e come fare a individuare i bisogni reali delle persone bisogni non risolti a cui rispondere attraverso il progetto in questo caso appunto il brief del progetto il brief iniziale era aveva come obiettivo quello di ridurre la distanza fra la casa circondariale il carcere di San Vittore e la città intorno il quartiere che lo ospitava e di farlo migliorando le condizioni di vita delle persone che quello spazio lo utilizzano quindi noi siamo partiti proprio dallo scoprire i bisogni di quelle persone che lì ci vivono ci transitano o ci lavorano e da lì siamo partiti con l'immaginare come avremmo dovuto riprogettare gli spazi perché la richiesta era quello di farlo attraverso la riprogettazione degli spazi è grazie alla ricerca che abbiamo scoperto che in realtà non avremmo dovuto parlare tanto più di spazi quanto più di bisogni e funzioni che quegli spazi avrebbero dovuto risolvere e accogliere nel senso che la ricerca ci ha portato a scoprire che i bisogni delle persone erano molto distanti da quelli che ci potevamo immaginare all'inizio quindi se all'inizio immaginavamo di dover ridisegnare faccio un esempio riprogettare lo spazio cella siamo arrivati a scoprire ed è l'unico spoiler Guglielmo concedimi che faccio e poi mi fermo siamo arrivati per esempio a scoprire che noi ci saremmo dovuti concentrare a risolvere i problemi di dare spazio alla socializzazione i bisogni di socializzazione risolvere diciamo lasciare spazio a quella che è la propria privacy con la propria famiglia in visita avere spazio per la formazione di qualità quindi ecco che lo spazio carcere avrebbe dovuto lasciare spazio di qualità e di conseguenza riprogettare degli spazi dedicati per funzioni nuove credo di aver detto abbastanza quindi passo la parola a Marco grazie Vale ok sto aspettando la slide grazie Vale sono Marco Miodini piacere a tutti e tutte di conoscervi nella mia pillola del podcast mi concentrerò soprattutto nella parte di validazione quindi raccontando che cosa significa per noi fare prototipazione e dando anche degli spunti o comunque un'idea su come condurre un processo di prototipazione il progetto di cui abbiamo deciso di parlare si chiama Smart Textile è un progetto che arriva da un bando di regione Lombardia e giusto per allinearci sul termine Smart Textile cosa sono sono indumenti o accessori dotati di sensoristica e circuiteria tessile che in genere sono connessi a dei device elettronici in grado di capire valutare o trasmettere dati fisici ok in questo progetto ci siamo concentrati su un target molto specifico in verità due però io nella pillola parlerò soprattutto del primo target che sono le donne riduci da un'operazione oncologica al seno quindi si parla di mastectomia quarantectomia e come ho detto mi concentrerò nella fase di prototipazione però ci tengo a precisare che diciamo questa fase eredita tutto un patrimonio di informazioni di dettagli e di dati da due fasi precedenti che sono state una fase di ricerca molto ampia e una fase di ideazione in questa in questa pillola parlerò un po' di cosa significa prototipare ovvero sviluppare un prototipo che si può definire una versione ridotta di un prodotto di un servizio che incorpora delle caratteristiche che sono considerate importanti o principali e sostanzialmente bisogna andare a testare o validare alcune ipotesi o idee di progettazione che sono state fatte nelle fasi precedenti l'obiettivo è quindi non andare a ridurre il rischio di investire in soluzioni che poi non tengono in considerazione i bisogni delle persone quindi ridurre al minimo questo rischio diciamo che nella pillola poi andrò più nel dettaglio però ci sono diciamo presenteremo come noi abbiamo condotto questo processo di prototipazione e è interessante quello che è emerso che le beneficiari si sono concentrate all'interno di un workshop di ideazione l'idea che è emersa è stata proprio una guaina per l'infedema molto fashion molto appeal perché al momento non esiste non è coperto questo bisogno sul mercato quindi diciamo l'idea che è emersa è una guaina in grado di mappare alcuni parametri e poi restituire delle informazioni molto importanti sia ai beneficiari sia alle beneficiari che agli esperti e le esperte infatti il nostro processo di prototipazione ha tenuto dentro entrambe queste anime abbiamo sostanzialmente prodotto tre tre prototipi che sono stati poi consegnati alle beneficiari e poi successivamente intervistate e poi durante l'intervista abbiamo anche mostrato quello che è invece la parte più software di questa soluzione che è invece un'applicazione una dashboard che raccoglie tutti i dati li elabora e li restituisce alle beneficiari e agli esperti scusate alla fine diciamo di questo processo abbiamo avuto delle interviste sia con le beneficiari sia con gli esperti e l'obiettivo è stato quello di andare a raccogliere tutte le loro considerazioni su quanto noi avevamo creato e andare a migliorare il prototipo che era stato sviluppato e quindi ottenere una seconda versione l'obiettivo per la quale si fa tutto questo è proprio perché procedendo per piccoli step e non investendo troppo tempo e troppe risorse su dei prodotti fatti e finiti questo ci mette in una situazione più ci tutela e ci crea diciamo l'opportunità di pivotare nel momento in cui andiamo a scoprire nuove informazioni che ci permettono di migliorare il prodotto tenendo al centro proprio le persone che saranno beneficiari di questo prodotto in questo caso sono stati gli esperti e le beneficiari stesse ecco grazie posso la parola a Guglielmo credo che si concentrerà sugli altri sulle altre fasi del nostro processo prego io andrò un po' veloce su altre due storie in maniera tale da lasciare più spazio per le prime domande che iniziano a arrivare almeno nella chat di zoom ma quanto sappiamo appunto stanno arrivando anche su altri canali o possono arrivare su altri canali quindi vi lascerò con molta più curiosità in questo caso per le altre due storie una è riguarda il lavoro che abbiamo fatto per ELIS su rituali per il loro progetto il progetto delle palestre relazionali un progetto molto interessante che vuole andare appunto a supportare la transizione dal vecchio dalle modalità di lavoro che ormai non funzionano più accelerate soprattutto dal fenomeno della pandemia che stiamo attraversando verso appunto delle nuove modalità di collaborazione come fare questo abbiamo messo nella nostra scatola magica come uscita appunto dei obiettivi di risultati i rituali rituali che vediamo fondamentali come strumenti per cambiare una cultura organizzativa creare anche una prima comunità di pratica che poi vada appunto a rafforzarsi per poi diventare quella comunità di pratica che prenderà appunto il sopravvento quando le modalità di lavoro tradizionali vanno a crollare e questo per dire che sarà un progetto che è stato un progetto molto veloce e intenso nella sua prima iterazione poi in verità siamo andati avanti stiamo andando avanti con i mitici e le mitiche di Elis però ci concentreremo appunto su un momento di azioni di azioni di rituali mentre sulla seconda storia che vi andrò a raccontare è quella che forse un po' potrebbe da parte mia a rispondere a una delle domande che sono in chat almeno qui su Zoom che riguarda appunto forse il progetto più sfidante direi ma anche quello che fra quelli che ci ha dato o almeno mi ha dato particolari particolari soddisfazioni perché qui abbiamo seguito tutto il processo abbiamo seguito tutto il processo in diverse iterazioni in diversi anni dall'andare a definire un brief a ritornare poi su questo brief e ampliarlo rispetto a come abbiamo lavorato sulle successive bolle e partendo da un desiderio di creare un community hub in una zona in un quartiere di Milano un quartiere di 16.000 abitanti quindi diciamo la sfida prima è quella di non facilitare un'intelligenza collettiva portata da un gruppo di persone che può essere dall'ordine dei 5 all'ordine dei 50 60 anche il centinaio 150 ma di un intero quartiere questa era diciamo la prima sfida super super forte e poi come da quel momento lì siamo riusciti poi a portare avanti insieme a conformazioni di partner che sono andati via via cambiando un processo che ha portato oggi alla nascita di un quello che si può definire un community driven innovation hub e lo scopriremo nel podcast cosa significa il cui nome però è Magnete si trova nel quartiere Adriano di Milano questo detto queste sono le due storie non vi anticipo nient'altro così passo la parola a Dema per chiudere e alle domande sì sostanzialmente andiamo poi a chiudere diciamo questo palinsesto con una quinta pillola dove ho cercato di condividere un pochino il perché a nostro avviso sia importante innovare con questo tipo di metodologie e anche a spiegare nel dettaglio come queste metodologie si possono applicare a qualsiasi tipo di sfida a qualsiasi tipo di bisogno in diverse aree di intervento in diversi settori di impresa su diversi livelli o dimensioni di un'organizzazione quindi diciamo nell'ultima pillola cerchiamo di chiudere un po' il cerchio e appunto di raccontare il perché diciamo questo processo di lavoro con queste metodologie in qualche modo proprio perché partono dai bisogni da un processo molto strutturato che appunto consente di liberare la parte creativa ma poi di lasciarla diciamo vincolata in qualche modo a dei passaggi molto precisi che questa metodologia prevede appunto si possano andare a risolvere sfide che riguardano per esempio l'inclusion l'engagement all'interno delle organizzazioni così come appunto abbiamo parlato di organizzazione di innovazione organizzativa di new ways of working di come andare a capire magari nella propria azienda nel proprio mondo come evolverà il business come dovranno evolvere i miei prodotti i miei servizi per essere di appeal a questo mondo che cambia molto rapidamente e a questo ingombro digitale che vuole sempre più spazio quindi dei temi proprio di business envisioning così come anche progetti diciamo più sulla parte soft che riguardano appunto la trasformazione culturale che può essere di un luogo di una comunità di un'organizzazione fino come ci ha raccontato Marco appunto la produzione di tecnologie che devono però creare che sono diciamo uno strumento abilitante per creare un cambiamento e altri diciamo altre aree di intervento che insomma poi nelle varie pillole andremo andremo un pochino a toccare questa è una velocissima chart per dare dimostrazione che i mondi in cui lavoriamo sono tutti completamente differenti quindi partiamo da delle fondazioni verso le istituzioni collaboriamo con delle università e con diversi tipi di corporate che vengono da diversi mondi quindi a dimostrazione del fatto che tutto questo realmente si può adattare a qualsiasi progetto di innovazione o cambiamento io così ho concluso vado a togliere la condivisione delle slide e anche io ho visto che c'è qualche domanda quindi con piacere vi dedichiamo il tempo che serve per rispondere credo anche che siamo riusciti a rimanere nei tempi eccoci qua puntualissimi assolutamente allora sono arrivate delle domande parto dalla domanda in chat Sara ci chiede se avete delle letture da consigliare sul tema del design e dell'impatto sociale per scoprire di più di questa di questa disciplina insomma io potrei essere scontato quindi non so se Valentina tu che stai portando avanti anche un corso verticale su questo vuoi dire no io anche sarò scontata ma non so il livello di formazione della persona che ce lo chiede quindi partirò con i classiconi in realtà quindi per la social innovation the open book of social innovation Nesta e the young foundation insomma io parlo tutto con le mie tre perle poi ognuno fa le sue This is Service Design Doing per una selezione di strumenti che in realtà passano attraverso tutto il processo diciamo si usano in tutto il processo che Guglielmo vi ha raccontato e invece specifico sulla parte di cui che appassiona di più è sulla ricerca l'intervista biografica di Rita Bicchi intervista biografica di una proposta metodologica che racconta il perché e come fare interviste è un un testo classico che diciamo mi piace sempre molto riportare sull'impatto e il cambiamento lascio a voi in verità visto che ci abbiamo poco tempo e già detto dei bei titolini che è super utile io menziono soltanto il caro Ezio Ezio Manzini che appunto tra l'altro gli ultimi libri che ha scritto sono anche in italiano quindi per il pubblico italiano è anche più facile prendere anche tutte le varie sfumature di quello che scrive e quindi Ezio Manzini che ha un background da ingegnere d'architetto e professore a Politecnico di Milano alla sezione design e quello che per prima ha parlato di comunità creative e di come il design può sopportare comunità creative appunto per creare un cambiamento direi che Sara vai a spucciarti la sua la sua bibliografia e da lì scegliere il titolo che più che più ti prende non ti voglio suggerire altro così anche inizia a partire rispetto alle tue preferenze un giorno poi potremo rispondere Shift on design for social innovation volume 1 che bello e beh vi condenso due domande in una una aveva già risposto avevate già risposto prima allora ci chiedono qual è stato il progetto più difficile o sfidante con il quale avete lavorato e poi anche una curiosità di un partecipante da che corso di studi provenite quali competenze sono assolutamente necessarie in questo lavoro un po' veloce semplice per questi studi design poi con un master in project management per il no profit e infine con una summer school in service design questo per dire che non è un processo lineare neanche quando si viene da un background di design e quindi anche di seguire il più possibile linearità se esiste questa questa parola sulle competenze il prevedere il vedere e il far vedere quindi prevedere scenari e quello che appunto può cambiare in base al nostro alle azioni che possono avvenire nella realtà vedere opportunità o problemi o pattern attorno anche ai bisogni problemi questo forse risponde anche un po' accenna velocemente all'ultima domanda che ho visto in chat e poi far vedere vuol dire appunto quando parliamo di sense making ci portiamo verso differenti linguaggi di differenti persone e quindi far vedere significa raccontare quello che è emerso rispetto a una diversità di linguaggi e di persone sintetizzo in queste appunto tre capacità che poi sono riportate anche a letteratura un pochino più classica sul design e design strategico passo io ho anche designer di formazione laureata in design del prodotto in industrial design all'inizio e poi in specializzazione in service design quindi di formazione sono service designer la parte innovazione sociale viene invece col lavoro diciamo con le esperienze sul campo io avevo scoperto quasi subito appena appena iscritta la laurea di industrial design che volevo lavorare su altre tematiche meno tangibili in cui i risultati non fossero degli oggetti diciamo a meno che questi oggetti non effettivamente non fossero la soluzione di problemi sociali umani importanti quindi diciamo è stata un po' una spinta che è partita da dentro quello di volermi concentrare su temi sociali direi che le competenze sono dal mio punto di vista curiosità capacità di ascolto empatia e poi forse la diciamo quella un pochino più sfidante è la capacità di avere idee ma di non innamorarsene di facilitare invece quello che è il processo creativo delle altre persone quindi accompagnarle capito il contesto capito le problematiche capito i bisogni accompagnare anche gli altri quindi in co-design a trovare la soluzione corretta grazie vado veloce anch'io io credo io arrivo da studi di economia quindi sia specialistica che triennale in economia quindi questi temi a livello accademico non li ho toccati mi sono appassionato durante i miei studi li ho scoperti li ho coltivati in modo personale poi ho avuto l'opportunità di applicarli subito entrando in shift on recentemente ho fatto un corso di specializzazione in bocconi sull'imprenditoria sociale che si chiama Impact Your Talent se devo identificare delle competenze avevo in testa alcune competenze molto simila vale aggiungo capacità di ascolto e apertura al cambiamento quindi avere un mindset molto aperto senza costruirsi delle auto barriere quindi io identifico queste cose oltre a quelle già dette da Guevale ma non so se tu vuoi condividere i tuoi aspetti sì io ho studiato scienze internazionali diplomatiche ma ho capito quasi subito che nella vita non potevo fare l'ambasciatore e ho scoperto questa mia passione per l'innovazione e e da lì è partita diciamo anche proprio un fascino per l'innovazione che ho sempre seguito ho un percorso poi molto molto diverso nelle varie esperienze lavorative fino a poi al momento in cui si è fondata ShiftOn e diciamo come competenze parlo anche un pochino per il ruolo che ho in ShiftOn sicuramente coraggio perché andiamo sempre a lavorare su qualche cosa che non esiste cioè questa infatti rispetto alla domanda qual è il progetto più complesso io avrei risposto ma non ho risposto perché non sono un progettista per me i progetti sono tutti complessi perché non ci sono progetti banali perché quando veniamo ingaggiati veniamo diciamo ingaggiati perché si deve creare uno spazio che non c'è una cultura che non c'è si deve trasformare qualche cosa si deve aggiungere qualche cosa a volte si deve anche cambiare la narrativa o rigenerare un luogo risignificare uno spazio e tutto questo per me è sempre complesso quindi sicuramente il coraggio e poi e però anche la tranquillità quindi perché il coraggio poi a volte è anche un po' sinonimo di di paura anche un po' di tranquillità di appoggiarsi ad un metodo molto preciso molto strutturato che se si segue pedissequamente in qualche modo ti porta a destinazione ovviamente poi devono accadere tutta una serie di cose però diciamo su questi due aspetti secondo me sono i due sprint dal mio punto di vista grazie per l'ascolto grazie mille passiamo all'ultima domanda allora c'è un'aspettatrice che si è collegata tardi ci chiedeva per quanto riguarda i bisogni e i problemi da risolvere in che modo vengono individuati o meglio sono messi sul tavolo dal cliente oppure emergono anche dopo un vostro lavoro di ricerca analisi i bisogni sono o tuoi oppure di Ema se andiamo lato in verità di tutti però era per passare la patata possiamo rispondere la patata allora possiamo rispondere su due livelli secondo me nel senso che io ho un ruolo in shift tone dove in qualche modo porto in giro il credo porto in giro il valore che può apportare la nostra consulenza quindi incontro i committenti in un primo livello in quel primo livello i bisogni non sono mai chiari si vedono sicuramente i problemi si vedono sicuramente i limiti si ha una percezione tendenzialmente più o meno vaga di quelli che sono le aree di intervento e si ha consapevolezza che si deve fare qualche cosa quindi questo è diciamo ovviamente poi sto cercando volutamente di generalizzare per poter dare una risposta non è sempre così però generalmente al mio livello quando io inizio una relazione inizio ad approfondire un tema siamo a questo stato quindi comprendo molto bene che poi nel momento in cui parte il progetto nelle sue fasi resto confidente tranquillo perché poi su questa diciamo anche identificazione vaga dell'area di intervento so che poi qualche cosa verrà meglio chiarito non so se Guglielmo Valentina o Marco vogliono invece raccontare della seconda dimensione nel momento in cui poi dopo la barca parte inizia il processo e si affrontano le prime fasi se volete vado io molto brevemente anche perché poi appunto nelle pillole questa parte viene nel podcast viene approfondita in quasi tutti i progetti noi facciamo sempre un passo indietro diciamo la prima cosa che facciamo quando riceviamo un brief è fare un passo indietro e capire che cosa ha portato quella richiesta quindi capire quali sono i bisogni o le problematiche le criticità che richiedono il nostro diciamo intervento per cui le persone a un certo punto ci chiamano quando diciamo sì quando si tratta di risolvere dei bisogni noi partiamo sempre da una fase appunto di ricerca quindi adesso non voglio parlare di strumenti troppo lungo però appunto sappiamo che abbiamo progetti in cui ci sono delle fasi anche abbastanza lunghe in cui intervistiamo le persone queste persone possono essere gli utenti finali di un servizio ma come possono essere esperti del settore come possono essere figure strategiche all'interno dell'azienda dipende dal progetto possono essere cittadini come nel caso del progetto che vi raccontavo prima sul carcere in realtà noi siamo andati a intervistare anche le persone che vivono intorno al carcere quindi diciamo ci facciamo ispirare anche un pochino in quella fase nel capire chi potrebbe darci informazioni utili a risolvere a scegliere delle direzioni progettuali innovative poi io ho parlato delle interviste che quasi sempre caratterizzano i nostri progetti ma abbiamo tante altre modalità per scoprire bisogni nuovi che partono diciamo focus group piuttosto che modalità più quantitative piuttosto che direttamente dei workshop delle sessioni di assessment in cui insieme a tutti gli stakeholder coinvolti e potenzialmente anche gli utenti andiamo a raccogliere i bisogni in alcune sessioni già di laboratorio non so se ho risposto alla domanda in ogni caso noi diciamo il service design in generale pesca strumenti da altre discipline quindi per esempio la modalità in cui noi facciamo le interviste viene dall'antropologia quello che ha aggiunto il service design o il design forse la capacità di visualizzazione un po' di messa a sistema individuazione di pattern che vengono fuori dalle interviste per esempio quindi peschiamo dalle discipline che servono al service design al design in generale vengono da altre discipline anche più anziane più storiche grazie mille Valentina secondo me ti abbiamo risposto a tutto visto che in chat Guglielmo citavi le le pills l'episodio uno degli episodi della serie di mini podcast infatti da domani pubblicheremo dei bei dei insomma step by step tutti gli episodi che saranno utili proprio per capire meglio il tema del design e dell'impatto sociale anche attraverso esperienze e casi pratici a cui il team di shift on ha lavorato io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione ringrazio tutto il team di shift on anche i nostri partecipanti a brevissimo questo podcast sarà ovviamente disponibile su attiviamo energie positive e da domani ve lo ricordo una delle pinze perché non saranno disponibili tutte insieme metteniamo un po' di suspense insomma grazie mille ancora per la vostra partecipazione grazie mille a voi a tutto il team grazie a voi grazie grazie mille grazie ciao grazie ciao a presto